Quali sono i vantaggi di consumare un cucchiaio di semi neri al giorno? Questo nutriente è una buona fonte di fibra insolubile, che è insolubile in acqua e rimane nel tubo digerente dopo il consumo. La fibra insolubile assorbe l'acqua in eccesso nell'intestino e favorisce la crescita di batteri probioci. La fibra alimentare e i polisaccaridi nel suo contenuto, proteggono la flora intestinale e alleviano tutte le funzioni digestive. Contiene anche grassi sani come gli omega 3. Contiene anche proteggono la salute del cuore.